Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. In esterna perché ci troviamo in quel di Ceparana, la spezia ridente cittadina che farebbe invidia a Silent Hill. Perché andiamo a trovare l'amico John Kustraps, ossia Giovanni Cinturini Fighi, colui che ci realizza i cinturini bellissimi e artigianali. Perché purtroppo una volta ogni tanto dobbiamo far fare l'orologio all'amico Piero, il cinturino all'amico Piero perché anche lui ogni tanto si merita uno svago. Per quale orologio ti vuoi fare il cinturino? Facci vedere. Ciao amici, benvenuti. È stato un piacere. Oyer. Oh, sarebbe l'Oyer Pasadina. Questo qua è un tuo recente acchiappino, vero? Eh, guarda, da quando l'ho preso a Gorgonzola non l'ho più tolto. Due settimane che lo indosso. Bravo. E quindi ci facciamo fare il cinturino per questo? E viene fuori simpatico? Sì. E io invece sai cosa c'ho al polso? Sì. Cosa c'ho? Un orologio. L'ignoranza di Piero non ha limiti, io c'ho il Viller Vetta Dynawind. E in questo caso 39 mm di diametro cassa, calibro... Settacoloria. Sellita SV200. E in questo caso c'ho il nato fatto da John Kustraps, single passo. Vedete che passa solamente una volta sotto e lui è in cuoio. Un nato in cuoio. E però io... È come te, single. E invece te? Io sono sposato. Bravo. E te sei sposato con chi? Con Monica. Bravo. Andiamo a trovare l'amico John, dai. Andiamo. Che sarebbe Giovanni, eh. Giovanni centurissimi. Sì, ma bussa, non far come sempre che entri, che non è casa tua. Chi è? Avanti. Sono io. Buongiorno. C'è nessuno. Si è nascosto. Perché lui non si vuole far mai vedere. Oh, in realtà si scopre l'altarino. È l'uomo invisibile. È il momento di rubare qualcosa allora. E io rubo tutto ora. Qua, 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 cosa c'è qua? Ci sono orologi? Mi. No. Oh, io rubo veramente. Qua, ragazzi, quasi, quasi mi proverei anche uno. Dai, dopo facciamo qualche prova. Sono belli questi qua? Sì, sì. Io prenderei tutto il... No, ma seriamente, posso rubare veramente un centurino? Non so dove. Deve essere in bagno. Dai, vabbè. Comunque. Io rubo. Cazzo me ne fai. Ma scuola, Piero, ma abbiamo deciso che orologio, sì, che centurino fare. Eh, sì, marrone. Marrone poi? Marrone con le cucituzze. Ma non ti vedo deciso. Eh no, perché non so come si dice. È racing. Mi sono ricordato. Racing. Sì, per il Pasadino va bene racing. Va bene racing per il Pasadino, vero? Giovanni, allora. E adesso siamo con l'amico John, detto anche cool, che si è già messo al lavoro perché l'amico Piero ha voluto un cinturino racing pull-up marrone scuro con le cuciture? Bianche. Bianche. Che vuol dire pull-up? Vuol dire, c'è il push-up e poi c'è il pull-up. Si chiama così, non lo so. Eh, che sono tecnico. Quindi l'amico John qua lo vedete già al lavoro. Oh, bravo. E sta iniziando a fare tutte. Ora noi taglieremo anche un po' corto perché l'avete già visto come lavora. Quindi durante il montaggio accorceremo, eh? Non è che stiamo lì. Cioè, poi una volta che per Piero cosa me ne frega a me? Grazie. Grazie. Cos'hai scritto lì nel bigliettino? Quello non leggo. Post-it per risultare Piero. Ah, grazie. Ah, quindi se mi dite qualcosa non la scrivi come sempre? Ah, grazie, grazie. John pull-strap. Ora stai zitto. Va bene, sto zitto, ok. Va bene. Chiaramente poi qui ci sono tutta una serie di cinturini bellissimi già pronti. Preta portè. Che ora io, a me mi verrebbe quasi voglia di... Eh? Io uno l'ho preso, eh? Lo so che l'hai rubato uno. Viola, un bel viola. Ora purtroppo io c'ho il Villervetta Dynawind che è, diciamo, 22 di alza. Quindi questi qua sono tutti da 20. La sfortuna mi perseguita. Ma ce n'hai orologi da 20? Non ne ha? Sì, però oggi ho portato il Villervetta. Ma te ruba, cosa te ne frega? Pigliano i due o tre. Ma sì, quello è logico. Posso rubare anche quelli già pronti per la spedizione? Ma sì, tanto i clienti che cavolo ce ne frega? Ma sì, rimarrà senza. Questo qua è imbottito. Leggermente. Quello che mi aveva fatto per il monaco è un po' imbottito. Imbottito, faceva quello spessorino lì. Pasadina, pasadina. Simpatico, eh? Va bene, sto zitto. Però questo bigliettino qua lo devo portare via anch'io, eh? Mi fa comodo poi quando siamo in giro. Piero, stai zitto. Capito così? Piero, stai zitto. Sì. Naturalmente questa qua è la fase dell'incollaggio, no? È un po' noiosa, ma è necessaria per ottenere un lavoro come si deve. Ma poi lo cuce, vero? Certo. Non mi si scolla. Non si scolla. Questa si chiama, no? La smussatura degli angoli inferiori per far vedere, no? Che poi dopo non ti tocca perché sennò taglia. Da fastidio, non è che taglia da fastidio. È un colore, cos'è? Che crema è quella? Oh! Lo dico io, dimmelo. Dio, buono, ma sei duro. Va... Va... Va Gesil, come va? Eh, adesso guardiamo anche l'orologino del giorno di l'amico John Kustrapp, che altri non è che il Black Bay 58, con il cinturino esattamente come quello che ti sta facendo. È uguale. Porca puttana, se lo sapevo. Cambia forse la parte finale. No, io lo facevo fare. Però stai zitto. Grazie. Oggi è la mia giornata, siamo qui per me. Oggi è la giornata per la quale celebriamo l'amico Piero, che finalmente riesce a prendersi un cinturino come si deve. C'è no, c'ho anche quello del monaco, come me l'ha fatto lui, eh? Sì, ce l'hai. Ed è bellissimo. Poi qualcuno te l'ho passato anch'io, è sotto banco. A voi, è sempre suoi però. Ah, è uno che l'ho rubato prima, l'abbiamo detto. Bravo, ce l'ho uno zaino io. Speriamo che ce lo dimentichiamo. È il viola, è il viola, tu non te lo metti il viola. Beh, io sì, io sono più audace di te. Vedo che siamo già in dirittura d'arrivo, eh? Praticamente. Eh, Piero, sei contento? Sì, inizia a piacermi tanto. Per vedere l'effetto finale è sull'orologio, no? Sì. Comunque sembra di capire che sei un pochino, rompi scatoloni, eh te. Io peggio di te. E così sì, e così no, e quell'altro sì, e quell'altro no. Ci porto più. Ma no, ma portami, portami. Giovanni ha pazienza, infatti guarda quanti bigliettini ha scritto. Anche oggi ha problemi alla voce, sì, ha l'influenza. Allora, amico Piero, qua abbiamo un dubbio. Possiamo farlo così liscio oppure con i fori tipo racing? È bello così, eh, guarda che bello che è. Cioè, è veramente bello. Però, non so. Vuoi i foretti te? Io direi di sì. Facciamo i forellini, dai, proviamo a vedere come viene. Casomai li buttiamo via e gli ridiamo i soldi, eh? Che soldi? Ah, niente. Oh. Oh, dai che ci siamo, dai. È più bello questo. È più bello così. Secondo me sì. Facci vedere. Secondo me sì. Sì, 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 sì. Sarà che, insomma, i forellini racing hanno sempre quel sapore un po' più vintage. Poi i cinturini di John Cool sono sempre più belle. Sì, adesso sposta la lingua che devo continuare. No, no, dai, sono sempre più belle. Cosa ha detto? Grazie Piero, sono 85 euro. Onestamente lo ridò indietro perché non sono molto soddisfatto. 85 euro! Però mi ha trattato bene, eh? Certo. Va bene, dai ragazzi. Noi siamo contenti qua con il cinturino fatto da Piero, eh? Quindi possiamo anche girare la camerina così e... Come la giri? Mi gira la testa, cosa stai combinando? Eccoci qua! Sentite che la vi incogliamo con un co-strap per tirare lo sciacquone, è già andato di là. E noi con il bellissimo orologino di Piero con il cinturino nuovo racing, il bellissimo Oyer Pasadina. Era vent'anni che non mi abbracciava, sappiatelo. Eccolo qua, siamo abbracciati e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono Quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!